Cogliamo l'occasione della presenza di alcuni consulenti che fanno parte di Medicina Democratica e dell'Associazione Nazionale Esposti a Mianto per tentare di costituire l'associazione anche qua in provincia di Avellino. Questo lo facciamo in virtù del fatto che nel corso di questi mesi abbiamo condotto insieme al Comitato di Lotto, Operai e Exisio Chimico, una dura battaglia per veder riconosciuti i diritti previdenziali di questi lavoratori che negli anni 80, fine anni 80, hanno lavorato con una forte esposizione all'Amianto senza norme di sicurezza e senza nessuna protezione e per quanto riguarda pure le visite mediche che ad oggi loro aspettano ancora. Sono diverse volte anche purtroppo nel corso della campagna elettorale, forse in modo strumentale pure, è stato detto che almeno le visite mediche avrebbero avuto luogo, però ad oggi i lavoratori stessi mi hanno comunicato che non hanno ricevuto nessun elemento di convocazione per far sì che questo avvenga. Quindi noi pensiamo che così, visto che ormai questa è un'avvertenza che dura da circa 20 anni, pensiamo che sia necessario andare avanti nella lotta, mettere al fianco del Comitato che già nel corso di questi mesi ha fatto un gran lavoro politico di, quantomeno per rendere nuovamente visibile questa avvertenza, mettere a fianco di questo Comitato di rifondazione di quanti oggi ritengono necessario essere a fianco di questa gente che ha visto un forte soppruso nei loro confronti, una struttura organizzata, serie come quella dell'Associazione Nazionale Sposti Amianto che tra l'altro nel corso di questi anni è stata al fianco di tanti lavoratori italiani e ha risolto anche tantissime avvertenze di carattere nazionale.